Ciao a tutti ragazzi, siamo in questo nuovo video di Lontube e andiamo a fare la missione Danneggia 5 volte le avversari con la torcia per riparazione Noi però siamo stati furbi, l'abbiamo vista nella tenda, eccola qua, la andiamo a prendere Per sicurezza prendiamo anche un po' di armi, colpi Andiamo vicino alle guardie OI e per 5 volte quindi tipo una, un po' di... Ritolgo tipo una volta 18 di danno Poi dopo, poco dopo, un'altra volta Pinnacoli pendenti, anche se questi qua non mi siano Una, due, due, tre Perché? Invece ragazzi ce la conta Quindi ragazzi conta anche alle guardie E mentre noi stavamo pensando che non ce le conta Invece ce le ha contate raga E ci vediamo al prossimo video E ricordatevi di iscrivervi e cliccate la campanellina Lasciate un bel like e condividete questo video con tutti Ciao 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 Ciao